In attesa dei prossimi step sulla cessione delle good bank, che a quanto pare dovrebbe essere davvero a portata di mano, ecco che tornano a far parlare di sé i dati sui possibili risvolti occupazionali. Sono stati calcolati dai 700 ai 900 suberi per quanto riguarda il personale delle quattro good bank. In totale, secondo quanto riporta il sole 24 ore, le quattro banche contano circa 4.700 dipendenti, 2.700 di questi fanno parte di Banca Marche, 1.500 sono della Popolare, dell'Etruria e del Lazio. Per quanto riguarda la situazione di Banche Truria, già da tempo l'Istituto di Credito ha avviato un procedimento che ha come scopo quello di accompagnare al prepensionamento 390 dipendenti, un'operazione dolce che è stata sempre coordinata da rappresentanti sindacali di categoria, 30 invece le filiali della Popolare che saranno chiuse. In totale, secondo i calcoli del sole 24 ore, l'operazione di gestione delle uscite volontarie costerebbe dagli 80 agli 85 milioni di euro alle good bank. Ma quale sarà il futuro esatto dei 1.500 lavoratori di Banca Etruria e delle 180 filiali attive potrà essere svelato soltanto dopo la firma e l'acquisto delle good bank da parte del nuovo compratore.